L'assessorato alle politiche del lavoro ha pubblicato l'avviso per la realizzazione di sette percorsi triennali finalizzati all'assolvimento del diritto, dovere, di istruzione e formazione. La prima e la seconda annualità di ciascun percorso formativo saranno finanziate con risorse assegnate dal Ministero del Welfare, mentre la terza annualità sarà finanziata con oltre 800.000 euro di risorse del Piano Operativo 2009-2010-2011 del Fondo Sociale Europeo 2007-2013. Prosegue il nostro impegno per salvaguardare il capitale umano, commenta l'assessore Paolo Gatti, interveniamo con risorse importanti del Fondo Sociale Europeo per garantire ai ragazzi di completare i loro percorsi formativi e ottenere così qualifiche professionali e titoli da spendere sul mercato del lavoro, non solo supplendo alla carenza di risorse statali, ma addirittura investendone di più di quelle messe a disposizione dell'autorità statale per l'anno corrente. Questa iniziativa, conclude l'assessore Gatti, si inserisce nella strategia complessiva degli interventi pensati per migliorare il sistema scolastico regionale e sarà seguita, a breve, da altri avvisi finalizzati al miglioramento delle competenze, all'innovazione dei sistemi di apprendimento e al contrasto alla dispersione scolastica. Le candidature possono essere avanzate attraverso la presentazione di proposte progettuali, esclusivamente da organismi di formazione che siano accreditati o che abbiano presentato domanda di accreditamento per la macrotipologia, obbligo formativo, obbligo di istruzione. Destinatari degli interventi sono giovani che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado di età inferiore ai 18 anni. Sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, i sette percorsi saranno ripartiti su base provinciale. Grazie. Grazie. Grazie.